Le aspettative per il periodo natalizio ce n'erano, sono state tutte cancellate. La gente comunque ha voglia di ripartire, però per il momento, finché siamo bloccati dentro le case nostre, non si può fare niente. I ristori dovevano arrivare a metà novembre, non sono ancora arrivati, quindi i titolari stanno usando del loro patrimonio per continuare ad andare avanti. Molte le agenzie turistiche sono prossime al tracollo, almeno il 50%. Anche quest'ultimo DPCM non permetterà a molti di risollevare le sorti della propria attività. Divieto di spostamento e imposizione di quarantene impediscono di favorire qualsiasi desiderio di vacanza, nemmeno quelle tipiche della stagione. Assolutamente c'è la concorrenza dei paesi vicini, soprattutto adesso per il periodo neve, perché pare che alcuni stati stiano aprendo, ma pare che vogliono chiudere anche le frontiere tipo Italia-Austria o Italia-Svizzera, da quello che so, per non fare spatriare i nostri italiani per andare in altre località a sciare. Poi saranno fortunati chi avrà delle seconde case in montagna, però anche lì dovranno partire prima di una determinata data, perché il 25 e il 26 per ora non ci si può muovere. E quindi adesso domani dovrei fare una bella prenotazione per le Canarie, però sicuramente partiranno prima del blocco.